Verso il ballottaggio, gli apparentamenti degli ultimi giorni hanno modificato gli equilibri antecedenti al primo turno e sollevato non poche polemiche. A Capaccio Pestum la partita per le elezioni amministrative si annuncia tutta da giocare. Da un lato Franco Alfieri, già primo cittadino di Agropoli e attuale consigliere per l'agricoltura del governatore Vincenzo De Luca, dall'altra Italo Voza, con un'esperienza alle spalle di sindaco di Pestum che ha incassato l'appoggio dell'altra aspirante fascia tricolore Enzo Sica. Alfieri fiducioso, forte anche del 47% del primo turno, ma lo è anche Voza desideroso di riprendere il discorso amministrativo nella città dei Templi. C'è bisogno di una svolta, c'è bisogno di organizzare le tante risorse potenti che sono in questo territorio, c'è bisogno di un'amministrazione concreta, di un programma che sia portato a termine, c'è bisogno di un sindaco capace, competente che porti avanti le tante idee e che sia capace di fare sinergia con i tanti imprenditori, con le attività, con i professionisti, con le associazioni. Insomma c'è bisogno di cambiare. L'entusiasmo dei miei concittadini intorno a questa nuova coalizione possiamo dire, dopo il ballottaggio abbiamo creato questo apparentemente ufficiale alla luce del sole con la coalizione di Enzo Sica, quindi queste otto liste che devono trainare non il sindaco di Tero Voza, ma devono trainare un concittadino e un cittadino di Capaccio Pestum verso una vittoria perché il nostro paese vuole essere unito e soprattutto vuole realizzare questo progetto di comune che è un progetto, oserei dire, rivoluzionario.